Ciao ragazzi, bentornati, bentornati in un nuovo video, bentornati sempre qui in un nuovo appuntamento con il vostro MV Hardware, Marco Verdoliva, di domenica a farci due chiacchiere, ok? Prima di iniziare vi ricordo che se siete nuovi su questo canale c'è il bottone per iscrivervi, fatelo, vi consiglio di farlo, e di andare giù in descrizione perché ci sono i vari link per seguirci su Facebook, su Telegram e su Instagram e soprattutto i nostri canali offerti Telegram, MV Hardware Offerte, dove cerchiamo un po' di postarvi qualche cosa anche se ultimamente non c'è tantissima roba ragazzi, l'hardware scarseggia, però mese prossimo ci sarà il Prime Day, quindi vi consiglio di iniziare già da adesso ad entrare nel canale Offerte perché sarà un buon momento per fare degli acquisti in generale, anche se non mi aspetto chissà quanto restock di cose in questo Prime Day Allora, prima di entrare nel clou della discussione di oggi, qualche secondo per il nostro sponsor Non sai dove acquistare una chiave di Windows 10? Semplice, CDKDLs è il portale che ti mette a disposizione tutta una serie di chiavi Microsoft e Windows ma non solo, anche Office e tanti giochi come ad esempio piattaforma Steam, Origin, eccetera, eccetera Vi basta creare un account, entrare nel sito e inserire il prodotto nel carrello, in questo caso Windows 10 Pro che costa circa 17,50€ ma con un ulteriore sconto MV20 riuscite ad avere un 20% di sconto e portarvela a casa circa 14€ Pagate comodamente come preferite, tra cui anche Paypal accettano come metodo di pagamento Una volta che avete acquistato la key, vi basta andare in impostazioni, sicurezza e aggiornamento e nella sezione attivazione inserire la vostra key per attivare il prodotto Insomma, che dire ragazzi, CDKDLs, tutti i link in descrizione Allora ragazzi, se non lo sapete, ve lo dico io, ma tanti di voi già lo sapranno Questa settimana ci sarà ovviamente una serie di presentazioni perché c'è l'E3, c'è il Computex, ci sono tantissimi belli avvenimenti che li stavamo aspettando proprio per comprare nuove robe e quindi ci sarà un po' di hardware che verrà lanciato Ovviamente questi eventi sono un po' il trampolino di tutta una serie di cose Vedremo hardware di tutti i tipi, soprattutto al Computex Ma la cosa più interessante, o meglio quello di cui si sta parlando già da giorni e giorni Questo evento bellissimo che sarà il lancio delle nuovissime GPU di casa Nvidia E parliamo della serie Ti 3080 e 3070 Adesso, come voi sapete benissimo, talmente di quelle schede video che noi siamo riusciti a comprare, ma proprio bidoni ma proprio container interi di RTX 3080, 3070, eccetera, eccetera che avevamo in effetti bisogno di un restock di schede soprattutto con nuovi chip, perché altrimenti noi come facciamo ad andare avanti in questo marasma del gaming e ci pensa Nvidia proponendoci queste due schede Su internet e online sono venute fuori una serie prima di leak di possibili specifiche e poi sono state confermate anche quelle che probabilmente saranno le caratteristiche di questa 3080 Ti principalmente perché della 3070 Ti si è parlato poco e tutto questo sembra essere confermato e lo vedremo probabilmente nella conferenza Nvidia che ci sarà al Computex Parliamo sostanzialmente di una scheda che è una 3090 leggermente depotenziata, quindi sarà probabilmente con 80 Compute Units o Clusters GPU, come la chiama Videocards ci saranno quasi 10.240 CUDA Cors, quindi quasi il numero della 3090 un numero abbastanza alto di RT Cors, i Tensor Cors diciamo che le frequenze saranno simili, almeno per la Founders a quelli che sono i clock base della 3090 forse qualcosina in meno e 12GB di GDDR6X, quindi 2GB in più rispetto alla 3080 ovviamente queste caratteristiche sono delle caratteristiche abbastanza interessanti perché effettivamente le performance dovrebbero essere quelle quasi vicine a una 3090 con un buon distacco dalla 3080 se tutto questo fosse innanzitutto confermato dal prezzo perché non conosciamo il prezzo la 3080 appena fu lanciata sul mercato doveva costare circa 719 euro per la Founders e poi circa 800 euro le varie custom qui si parla probabilmente di prezzi che dovranno essere intorno ai 1100-1200 euro per le Founders o per le custom meno costose capite bene che oggi, oggi, che è 30 maggio 2021 se vi volete comprare una 3080 e diciamo non siete in grado oppure non riuscite a prenderla a prezzo di costo che comunque è elevato da un Amazon o da qualche sito che riesce a rifornirvi di Founders una 3080 probabilmente in giro su eBay la pagate intorno alle 1600-1700 anche 1800 euro e figuratevi una 3080 Ti quanto potrà costare? in realtà queste schede dovrebbero essere lanciate definitivamente sul mercato il 3 di giugno data in cui dovrebbero essere reperibili ma ovviamente così non sarà forse usciranno delle Founders che dureranno 5 secondi e dopo 30 secondi vedremo già i primi annunci su siti vari come eBay, Subito, eccetera, eccetera quindi non ci aspetta nulla di buono diciamoci la verità non è in questo momento un lancio che potrebbe risollevare in qualche modo l'andamento anche perché a parte che vabbè sono state confermate anche tutta una serie di leak riguardo quelli che sono e che dovrebbero essere i punteggi di questa scheda che sono comunque dei punteggi alti con dei rumors sul solito Ashes of Singularity non so perché si ostinano a fare dei test su Ashes of Singularity che è un gioco stravecchio e tra l'altro è molto CPU dipendente a mio avviso ma poi sono state anche confermate tutta una serie bellissime custom è ovvio le custom che dobbiamo fare con queste Founders già costano poco, costeranno poco Gigabyte ha fatto intravedere qualche foto ma alla fine dico io le vedremo queste schede penso proprio di nuovo anche perché se voi andate a vedere c'è un articolo tra l'altro su Tom's Hardware su quello che è stata la chiusura del primo trimestre Nvidia che ha confermato un grosso diciamo aumento di Android legato soprattutto alla vendita di GPU ma innanzitutto hanno confermato che la scarsità che questo shortage durerà per tutto il secondo semestre quindi la seconda parte del 2021 nonostante loro stiano cercando in tutti i modi a aumentare la produzione ma inoltre confermano sulla base dei dati che la gran parte di guadagno è stato fatto grazie ai gamers ma la domanda è altissima anche dal punto di vista del miner infatti Nvidia tra virgolette con i suoi dati ci conferma quasi che una buona parte di schede sono state vendute diciamo al fine di mining dicono secondo il loro articolo che le Nvidia CMP hanno in parte risolto questo problema ma io personalmente di CMP non ne ho viste nemmeno una dicono che sono più economiche che effettivamente sembrano delle schede che possano arginare il problema del mining ma così non è stato a meno che non si tratti della regione asiatica dove tra l'altro hanno venduto la maggior parte delle GPU da gaming voglio dire lì se la suonano la canzone e lì se la cantano forse le CMP sono arrivate là qua CMP non sono arrivate a meno di un sito che se non mi sbaglio era un sito degli Emirati Arabi che ha messo in vendita delle HX CMP 30 qualche mese fa e costavano 700 dollari voglio dire chi cazzo se le compra se le CMP dove stanno io tutta la gente che mina tutte le persone che minano e che conosco che minano anche in casa e che hanno delle belle rig stanno tutti quanti con le schede da gaming io CMP non ne ho viste alla fine riassunto che cosa vi voglio raccontare in questo video che vedremo sicuramente dei lanci e assisteremo al lancio delle 30-80 tiati settimana prossima ma non vi aspettate che questa cosa possa risollevare in qualche modo l'attuale situazione ne vedremo pochissime pochissime io ho già avuto contatti con una serie di store e mi hanno confermato che queste schede ancora non si sono viste e se si sono viste in pezzi e quantità veramente bassi quindi assisteremo all'ennesimo lancio per così dire sulla carta con una scarsissima scarsissima disponibilità di queste schede e niente ragazzi fatemi sapere voi che cosa ne pensate con un commento qui sotto io sono sempre a vostra disposizione lasciatemi un like lasciatemi un'iscrizione se la cosa vi fa piacere andate giù in descrizione a seguirmi sugli altri social noi ci vediamo con un prossimo video ciao ciao